Confcommercio, Confesercenti, CNA, Shopping in Centro e l'associazione Robin Hood insieme contro le multe prese da decine di commercianti e clienti per essere entrati in zona ZTL. Le associazioni dei consumatori e dei commercianti si uniscono dunque per ricorrere al prefetto e chiedere l'annullamento delle 4.500 multe riferite al solo mese di marzo. Chiediamo al prefetto di valutare un mese, il primo mese, di multe che sono state elevate cercando logicamente di eliminarle, cioè quindi di toglierle. Sott'acuta una mancata campagna di comunicazione e informazione da parte dell'amministrazione comunale? In particolar modo la comunicazione che forse non è stata precisa e puntuale. Dove si è scritto Varco non attivo voi contesterete che non era chiaro come funzionasse? Assolutamente sì, anche perché devo dire purtroppo a titolo personale ho preso tre multe nella stessa giornata, nel giorno in cui c'era scritto Varco non attivo. La Polizia Municipale e il Comune rivendicano al contrario la corretta presenza di cartelli esplicativi a ridosso dei varchi, insomma i cittadini abusivi non avrebbero scuse. Sì, questo è giusto, però devo dire che forse i cittadini devono essere aiutati, perché in questo frangente l'aiuto non c'è stato da parte dei vigili urbani. Le associazioni contestano le caratteristiche di questa ZTL. La ZTL è H24, quindi vuol dire che se noi non possiamo, quando possiamo entrare negli orari prestabiliti è bene, diversamente oltre non possiamo nemmeno entrare in città. Ma questa ZTL vi sta penalizzando voi commercianti in centro? Devo dire assolutamente sì, che a Teramo in questo momento è una fase davvero di declino commerciale, sociale, devo dire che non si può permettere di perdere ulteriormente spazio per le persone, per i cittadini che vengono in questa città e che devono soffrire di questa città. E i commercianti vogliono riconfrontarsi al più presto con l'amministrazione comunale. Chiederemo invece un tavolo in cui si ridiscuta per poter davvero ricominciare a permettere alla gente di vivere Teramo.